Allora, dopo altre dieci ore e mezza di viaggio allucinante, siamo ritornati qui dalla base di Arequipa, siamo tornati qui a San Juan de Marcona, dove resteremo fino alla giornata di domani per poi riproseguire verso Pisco. È stato un viaggio allucinante, terribile, uno sballottolamento continuo, impossibile dormire, perché sono tornato veramente sceccherato, agitato e mescolato alla faccia di 007, vi lo posso garantire. Per di più la situazione fisica sembrava che andasse un po' meglio, in realtà non è così perché non sto benissimo, non mangio da 36 ore e stamattina me lo sono imposto perché avevo proprio necessità di buttare giù qualcosa, mi sento un po' debole, sudo freddo, sono un po' messo male. Però dai, ormai tre giorni è finito il circo e quindi poi si torna a casa. E niente, oggi i piloti sono partiti per la speciale e arriveranno qui intorno al primo pomeriggio, per cui adesso cerco di recuperare una macchina, mi hanno detto che forse mi possono portare alla fine della speciale, così potrò fare anche qualche scatto un po' serio, visto che non mi hanno ancora dato la possibilità di farlo con le moto in azione. Vediamo se riesco a fare questa cosa per oggi. Buona giornata, dai restate qui, adesso tra poco vi farò un piccolo servizietto curioso su uno dei miei consueti dietro le quinte, ci sarà da divertirsi, guardatelo.